Immaginate quale possa essere il livello di frustrazione se in 13 anni di militanza nell'NBA in una franchigia come i Los Angeles Lakers, quindi una delle più vincenti di sempre, giungi alle Finals per 8 volte per poi perderle tutte. Ecco, la carriera di Elgin Baylor, scomparso oggi all'età di 86 anni, si può riassumere così, il più grande perdente di successo nella storia dell'NBA. Il periodo di riferimento è quello degli anni 60, anni dominati dai Boston Celtics di Red Auerbach e Bill Russell, ma il personaggio di cui parlerò è stato uno dei più clamorosi e devastanti realizzatori della storia dell'NBA. Nasce il 16 settembre del 1934 a Washington, in un'America profondamente segnata da scontri razziali e da interi stati in cui i neri non erano ammessi nei college. Deve il suo nome di battesimo alla marca dell'orologio da taschino del padre. Alla high school il suo curriculum scolastico era estremamente negativo ed ebbe non poche difficoltà a trovare un college disposto a dargli una borsa di studio. La sua carriera universitaria sarà però unica. Prima riesce ad entrare al college Ovidaho, ma dopo una sola stagione, sempre a causa dei pessimi voti e nonostante i 31 e 8 di media, si trasferisce a Seattle University, dove però non pote giocare da subito per i regolamenti legati al mondo dello sport collegiale. Nel 1956 verrebbe scelto al quattordicesimo giro dai Minneapolis Lakers, ma lui decide di rimanere al college. Nel 1956-57, nella sua prima vera stagione a Seattle University, le cifre dicono 30 punti e 20 rimbalzi a partita. In quella dopo 32 punti e mezzo di media. Nel draft del 1958 entra ovviamente alla numero uno assoluta in NBA, sempre scelto dai Minneapolis Lakers, dove giocherà per tutta la sua carriera. Quei Lakers venivano da una stagione pessima, da 19 vinte e 53 perse. Nel suo anno da rookie fu il quarto miglior realizzatore dell'NBA, a 25 di media, conditi da 15 rimbalzi, e divenne il terzo miglior marcatore in gara singola di sempre, con 55 punti, che all'epoca erano un'enormità vista anche l'assenza del tiro da 3 punti. MVP dello Stargame nel suo anno da rookie con Bob Pettit, rookie of the year, ovviamente a mani basse. Da lì in poi divenne il primo, vero, unico realizzatore puro nella storia della Lega, con stagioni da 35, 38 e 34 punti di media. Il 15 novembre del 1960 segnò addirittura 71 punti contro i New York Knicks, con 25 rimbalzi in aggiunta. Nella stagione 1961-62 segnò record di 61 punti in gara 5 di finale NBA contro i Boston Celtics, record che regge tutt'oggi, e la cosa buffa è che prese anche 22 rimbalzi. Nel 1963-64 giocò l'intera stagione sopra un infortunio al ginocchio, e non segnò mai meno di 30 punti in singola partita. Una furia. Nell'estate del 1968 approdò a Los Angeles Wilt Chamberlain. Arrivò finalmente quel centro che colmava la grande lacuna dei Lakers. Baylor si ritrovò ad essere una delle tre punte di diamante di una squadra che aveva in West il principale terminale offensivo e appunto in Chamberlain quello difensivo, ma ormai gli anni migliori della sua carriera erano inesorabilmente alle spalle. Quei problemi al ginocchio lo costrinsero al ritiro dopo nove partite della stagione 71-72. Dopo il suo ritiro i Lakers vinsero 33 partite consecutive, record tutt'ora in tonso, ed ironia della sorte arrivò anche il titolo. L'anello gli venne comunque recapitato nonostante il ritiro, una sorta di ricompensa per una carriera intera in maglia giallo-viola. Nel firmamento della National Basketball Association, Elgin Baylor rappresenta una delle stelle più luminose, ma nel contempo quella con il debito più grande nei confronti della sorte. Un debito che i numerosi e continui riconoscimenti che il giocatore ha ricevuto nel corso dei 70 anni di vita della Lega solo in minima parte han potuto colmare. Nel 1992 Jerry West, uno che quei meravigliosi anni settanta li ha vissuti in prima persona, compagno di squadra di Elgin Baylor, ha dichiarato quanto segue. Sento spesso la gente parlare delle grandi ali di oggi. Ottimi giocatori, ma io non ho ancora visto nessuno che possa essere minimamente paragonato ad Elgin. 8 finali NBA tutte perse, 10 primi quintetti di Lega, 11 All-Star Game, il titolo di matricola dell'anno, terzo realizzatore di sempre fra i giocatori non più in attività per media punti dopo Michael Jordan e Wilt Chamberlain, nono per media rimbalzi, una serie di record realizzativi, alcune dei quali tuttora inviolati. Elgin Baylor era una guardiala completa ed elegante, capace di far male da ogni posizione ed in ogni occasione. Elgin Baylor si è spento oggi, 22 marzo 2021, all'età di 86 anni, in circostanze naturali. Verrà per sempre ricordato come il più grande giocatore di sempre a non aver mai vinto un titolo NBA, anche se, di fatto, l'anello in cascina ce l'ha ugualmente. All of Famer 1977, Elgin Baylor. A meno da domicilio, sembra... Grazie.